C'è un quarto carabiniere indagato nell'inchiesta Quater sulla tragedia del resort Rigopiano di Farindola. E' il tenente colonnello Massimiliano Di Pietro, ex comandante del nucleo investigativo di Pescara ed oggi in forza alla Legione Carabinieri delle Marche. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, Di Pietro sarebbe indagato in merito alle vicende relative alla gestione delle telefonate del cameriere Gabriele D'Angelo, dirette verso la Prefettura e il Coq di Penne il mattino del 18 gennaio 2017, 5 ore prima della valanga che ha distrutto l'hotel. Al momento non sono state rese note le ipotesi di reato perché sulla vicenda i PM della Procura di Pescara, titolari delle indagini Mantini e Capochiaro, mantengono uno stretto riservo. In questo filone di indagine sono indagati altri tre carabinieri forestali accusati di falso materiale e ideologico. Il tenente colonnello Anna Maria Angelozzi, il maresciallo Carmen Marinacci e l'appuntato Michele Brunozzi. A quanto si apprende nei giorni scorsi, la difesa del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, avrebbe chiesto al tenente colonnello Di Pietro di essere sottoposto a indagini difensive. L'ufficiale avrebbe, a quanto pare, chiesto di essere semmai ascoltato alla presenza dei PM che conducono le indagini per motivi di correttezza e deontologia professionale. Mentre si avvicina il terzo anniversario della tragedia che costò la vita a 28 persone, è in atto un vero e proprio scontro tra organi dello Stato, in particolare polizia e carabinieri, che si accusano l'un l'altro per esposti e denunce per calunnia sulla cosiddetta telefonata fantasma di D'Angelo e di relazione alla sua rilevanza per l'ipotesi di depistaggio contestata all'ex prefetto Francesco Provolo e a sei funzionari del suo ufficio.